Salve amico mio, ecco i prodotti in offerta dal 21 marzo per quanto riguarda gli articoli per la cucina. Iniziamo con un set di padelline in ghisa a 25 euro invece che 40 euro, quindi uno sconto del 37%. Ti faccio notare che una padellina è 23,5 x 13,6 x 2,5 centimetri e vanno in forno fino a 240 gradi. Hanno in marci dei sottopentola il legno di betulla. Sono molto convenienti perché la ghisa ha una grande inerzia termica, vuol dire che praticamente mantiene il calore quando si spetta la fiamma. Poi abbiamo un fornetto per pizza a 69 euro invece che 79 euro. È piuttosto conveniente, però va detto che con questa sua struttura secondo me consuma abbastanza elettricità. Posso anche essere smentito e smentitemi in caso. Poi abbiamo a 13 euro invece che 18 euro, quindi uno sconto del 27%, un tritatutto elettrico con un recipiente in vetro da 1,2 litri. È adatto anche per tritare il ghiaccio. All'inserto per l'emozionante una potenza assorbita di 500 watt. Ecco, è un prezzo veramente ottimo ed è la marca Silvercrest. Poi abbiamo ancora un inserto per craticola a 13 euro invece che 18 euro, uno sconto di 5 euro. È molto interessante per chi fa il barbecue sostanzialmente. Poi abbiamo un affumicatore a 99 euro invece che 129 euro. Qui lo sconto è importante, anche se in Italia, diciamoci la verità, il cibo affumicato non è molto diffuso, ma potrebbe essere, che ne so, l'inizio di un hobby. Perché no? È per una cottura delicata e a bassa temperatura, appunto affumicando. Si può utilizzare anche come barbecue a carbonello, ovviamente tenendolo aperto, alla porta in alluminio con la miglia in bacche dite. Così si può controllare il livello dell'acqua che serve per per fare il fumo e aggiungere velocemente la carbonella. Ha due griglie con diametro 40 cm. Dimensioni complessive sono abbastanza importanti, 62 x 52 x 90 cm. Lo sconto è anche questo importante perché è del 23%, quindi quasi un quarto. Poi abbiamo l'accendi grill elettrico, a 15 euro invece che 20 euro, uno sconto del 25%. Ha tre serpentine termiche, supporto da parete, potenza assorbita, 800 watt. Infine, teglia per grigliare o ciotoli per barbecue a 10 euro, invece che 13 euro, uno sconto del 23%. Sono in grass, manico smottabile, adatta al microonde, esistente a temperatura fino a 300 gradi centigradi, senza il manico ovviamente, perché quello se no si rovinerebbe. Dimensione delle ciotole, le ciotole sono queste, 15,5 x 13,5 cm ciascuna. Dimensioni padella 21 x 27 cm. Questo è tutto, alla prossima.